Cari altoatesine, cari altoatesini, le nuove varianti del coronavirus rappresentano una grande sfida per tutta l'Europa. Anche noi in Alto Adige abbiamo dovuto adottare nuove misure più restrittive. L'obiettivo rimane sempre lo stesso, ridurre al minimo i contatti sociali, ridurre al minimo gli spostamenti sia nel proprio comune sia sul territorio provinciale. Noi chiediamo a voi questo sforzo di osservare attentamente queste regole in uno spirito di solidarità e anche con l'obiettivo condiviso di ridurre il tempo di queste misure restruttive. Abbiamo una campagna vaccinale che ci darà un grande aiuto e che ci porterà poi in modo definitivo a superare questa crisi. Adesso bisogna stringere i denti e soprattutto anche continuare a osservare le regole in questa logica di ridurre i contatti. Grazie.